salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi siamo qui per disegnare due ritratti a fuoco preciso già da subito che è la mia prima volta ho già tracciato la linea ammaldita dei due ritratti ora aspetto che scaldi il pilografo ci mettiamo al lavoro e buona visione a voi grazie a tutti 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 video grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti